Due punti in tre partite dopo una serie positiva di 19 giornate in cui i neroverdi di Mister Taurino avevano collezionato 14 vittorie e 5 pareggi. Il bitonto capolista cade nel periodo clou del campionato, il Foggia quasi non crede ai propri occhi ma ringrazia e si gode questa vicinanza inaspettata con la Vetta. Vetta che a un solo punto si può quasi toccare con mano, anzi tra poco più di un mese i satanelli avranno modo di confrontarsi proprio con la capolista nell'attesissimo scontro diretto che andrà in scena allo Zaccheria. Quello sarà uno degli snodi cruciali della stagione ma nel mezzo per i rossoneri quattro gare importanti da non sbagliare che faranno da apripista per il big match del 9 aprile. Gentile e compagni affronteranno Grumentum e Sorrento fuori, poi Fidelisandri in casa e Altamura in trasferta. Questa è la roadmap per una corsa al primo posto che si fa sempre più imprevedibile. Il Foggia vuole approfittare del momento no del Bitonto per superarlo in volata nell'ultima discesa. Otto partite al termine, un appuntamento chiave, la lotta al primato nel girone H di Serie D entra nel vivo.